SORRY Non l'avevo fatta, però poterlo stesso It's hard to do the same Non poter dire un cazzo, però poter dire SORRY It's an only word that I say Anche questo non va bene, va bene Non vuole neanche questa parola fragile Omeopatica, allopatica Confupatica Antipatica Sincopatica Rincopatica Elemematica Psicopatica Pocatica 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 E' what? Es que dire! alle percussioni e alla batteria, non è mia zia, non è neanche uno della mia compagnia, è uno che è trovato proprio qui davanti al mollimalone e mi si è rivelato, mi si è rivelato un marrone. Dario Tangheri, da Mordara con amore, la città dei vivi e la città dei morti, vicino a Novara una bella palude di Montanara, e mi affido una bella fabbrichetta di strontale, sono l'ultima all'alimentazione generale. Tommy Molli Alle esecuzioni, programmatiche, concertistiche, Stommaso, la quercia. Applausi amici della Torre. Ma che dire di questa signorina che suona il basso così, 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 le cornea, fa rima con un zia, con un zia, con compagnia, con una fantasia, con cosa dia? Che cosa dia in cambio, mi dia in qualche cosa in cambio, signorina? Signorina Buonasera signorina, come va? Se sto bene Rosella Catonica Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Credo che il nostro spazio sia finito, ora andremo in nero, finito l'ultimo blocco di questa digitazione. E' bello tornare a Molly Malone. Grazie a tutti! 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 Michel Modell! Michel Modell! Michel Modell! Grazie a tutti! Grazie veramente! Troppo buon! Troppa bontà! Bontà! Bontà a loro! Bontà vostra! Lodi, lodi, lodi! Lodi, lodi! Lodi... 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 Crema, Cremona! Prego la legia di mandare quel filmato a destra valcolò... prima di mattina mi dicono che non è bene. Mi ha detto che sono troppo scemo. Che vogliamo fare? Sempre in conformità con la legge delle mani al pubblico che consente appunto le inattanti omologati a 6 persone. Siamo in troppo che non ci stiamo sulla banchetta. Quindi prima di accommiatarci. Ma cosa fai? Senza occhiali poi non vedo. Sì. 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 Grazie a tutti 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 Prego l'aiuto regista di mandare un film Grazie a tutti